Gianluigi Paragone, sicurezza a Varese partendo da un sabato sera che non è andato come speravi? No, diciamo parto da un piccolo fatto di cronaca che ho vissuto personalmente. Ieri sera in via San Martino l'ennesima rissa tra due bande, sicuramente non erano bande di ragazzi italiani, una banda era sudamericana, un'altra forse nordafricana, e hanno iniziato a menarsi nel salotto buono della città. Non è la prima volta che capita, devo dire che al di là di una sola pattuglia dei carabinieri non ho visto controlli, e direi che ora è arrivato il momento di risolvere il problema. Cioè o le città o il territorio viene tutelato dalle forze dell'ordine, oppure viene spartito da queste bande di teppisti, criminali, ed è ora di finirla. Quindi bisogna dare una risposta seria. Forse si è anche sempre pensato che il problema fossero le grandi aree urbanizzate, le città metropolitane, Milano, Roma, invece anche una città di provincia come Varese adesso ha i suoi guai. Ma tante sono le città di provincia che vivono la condizione di Varese, però quando viene privato il cittadino per bene, la famiglia per bene, della possibilità di vivere il suo centro cittadino, o le sue aree, beh il problema diventa anche dello Stato. Quindi da una parte bisogna ricominciare ad assumere personale dentro le forze dell'ordine, poi aggiungo un altro elemento. Le nostre città, qui a Varese, le città sono buie, le strade sono buie, ma che cosa me ne frega di avere i lampioni a LED quando non illuminano nulla? Io voglio avere dei lampioni che illuminano le nostre città, e altrimenti siamo sempre alla grande balla del risparmio energetico, che è un modo per dire io sto col braccino corto e le città stanno al buio. Più le città stanno al buio e più sono insicure. C'è anche un nodo sull'alcol servito ai ragazzini. Ma ti dico, è una cosa imbarazzante. Io penso che a un certo punto bisogna dare una lezione a chi somministra alcolici ai minori di 18 anni. Magari ne iniziamo a chiudere uno e vediamo che tutti gli altri capiscono. Poi ho intenzione di studiare una disposizione legislativa per cui si fa un alcol test ai minori e se vengono pizzicati vanno a fare servizio civile presso gli anziani, presso gli ospedali, i disabili e magari anche un esamino per capire gli effetti dell'alcol sul loro fisico.